13 ottobre 1957 nasce a Torino Arturo Brachetti artista di fama internazionale per aver riportato in auge in Italia e non solo la disciplina del trasformismo teatrale scomparsa da decenni dopo la morte di Leopoldo Fregoli avvenuta nel 1936 Arturo riveste le tante possibili incarnazioni dei personaggi portando in scena fantasia creatività eleganza ironia e uno smisurato talento i suoi spettacoli attingono alle stesse fonti dei grandi maestri del cinema della commedia dell'arte del teatro di varietà che predilige in modo speciale dal 2002 entra nel guinness dei primati come il trasformista più veloce del mondo in due ore ha interpretato sul palcoscenico 81 diversi personaggi in repertorio ne conta già 350 nel 2013 il quotidiano francese del mondo mette in prima pagina una sua intervista e il museo delle cere parigino lo celebra per una volta senza cambi d'abito grazie a tutti Grazie a tutti.